Stiamo preparando già da qualche giorno ad accogliere tutti i tifosi di Valentino che vorranno essere presenti a Tavuglia per vedere la gara in diretta. Con il ricorso com'è la situazione? Noi siamo speranzosi, speriamo che il ricorso possa essere accolto, concedendo la sospensiva per permettere a Valentino di partire secondo la qualifica che farà e non in base alla penalità che ha ricevuto, quindi non ultimo. La città è pronta ad accogliere la marea di tifosi che si appresta a venire, immagino siano ore anche di concitazione e febbrili per mettere tutto in sicurezza. Sì, sono giorni in cui stiamo lavorando molto per cercare di accogliere al meglio tutte le persone che verranno, quindi si tratta di organizzarci, di permettere una corretta viabilità senza creare disagi particolari, quindi dalla viabilità ai parcheggi e al trasporto delle persone dai parcheggi al centro del paese. E comunque sarà un momento di festa, comunque sia? Sicuramente un momento di festa e sicuramente un momento di tifo a favore di un campione che lo ha dimostrato già tante volte e saremo tutti pro Valentino. Grazie. Grazie.